Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Antonella Mosetti è stata al centro dell'attenzione negli ultimi giorni a causa dei presunti rumors di un flirt con Niccolò Bettarini, figlio dell'ex calciatore Stefano Bettarini, con cui Mosetti ha avuto una relazione in passato. La showgirl è apparsa come ospite nello show di Monica Setta, storie di donne al bivio, per fare chiarezza sulla situazione con Bettarini Junior. Secondo le anticipazioni disponibili online della puntata in onda su Rai 2 mercoledì sera, scopriamo cosa ha dichiarato. La notizia del presunto legame tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini ha scatenato molte chiacchiere ultimamente, soprattutto dopo essere stati fotografati insieme e finire sulla copertina del magazzino Diva e Donna. I gossip su un possibile flirt tra i due hanno preso il sopravvento, alimentando supposizioni. Questo ha generato dibattito, specialmente perché Mosetti ha avuto una relazione con il padre di Niccolò in passato. Durante il programma Storie di donne al bivio in onda su Rai 2, Antonella Mosetti ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle voci sulla sua relazione con Niccolò Bettarini Junior. Nonostante avesse già smentito i pettegolezzi tramite un post su Instagram, ha sentito il bisogno di spiegare definitivamente la situazione. Secondo anticipazioni apparse online e riportate da varie fonti, Mosetti ha ammesso di aver dato un bacio a Niccolò, ma ha precisato che si è trattato solo di un bacio sulla guancia, un gesto affettuoso e nient'altro. Ha descritto Niccolò come un ragazzo affascinante e intelligente, ma ha sottolineato che sono della stessa età di sua figlia, quindi una relazione tra loro è fuori discussione. Riguardo ai gossip, Mosetti ha dichiarato di essersi incontrata con Niccolò in Sardegna e di frequentare gli stessi ambienti sociali, da cui sono scaturiti i rumors. Infine, rivelai le cose.